ciao a tutti ciao ragazzi diretta oggi la faccio molto veloce perché non ho tanto tempo a disposizione però vorrei rifarla come si deve non solo sul tasso ma anche su altre varietà quindi cercherò di fare una diretta un po più completa oggi vi do piccolo spunto su cui diciamo per neofiti su cui si può lavorare da subito allora la condizione in cui ci troviamo adesso con questo tasso è di una forte presenza di germogli ovunque su tutti i rami sono tantissimi veramente tantissimi su tutti i rami anche sulla cima scusate lo sfondo poi lo mettiamo migliore in questo momento vi posso dire che possiamo iniziare potete iniziare vedendo questo questo video ad eliminare asfoltire tutti quei germogli che sicuramente che vi do la certezza matematica che non vadano bene quali potrebbero essere ad esempio di un esemplare così piuttosto grosso piuttosto grande ho lasciato un ramo faccio un esempio un ramo sulla parte bassa qui vedi qua io non toccherò alcun germoglio non perché vadano bene tutti ma perché mi serve tantissimo vigore e questo momento di sole vedi vedi la mano che che crea ombra quindi di sole in questo momento ne passa tanto quindi molta fotosintesi ancora di più sarà messo in condizioni di crescere nel momento in cui io potto soltisco qua sopra quindi avrò meno rami qua sopra ora vedi vedi l'ombra che crea la mano questa è l'ombra che crea la chioma in futuro in un futuro molto breve vedi ok quindi di questo ramo ci sarebbero tanti germogli da togliere l'unica cosa che io togliere almeno su questa zona la parte ramificata sul primario invece comunque conviene asportare in questo caso perché essendo un rametto sottostante molto interno questi qui conviene questi precedenti ai secondari conviene già asportarli con le mani vedi che come è facile vedi è facilissimo sino sino a che punto almeno sino alla biforcazione quindi che non ce ne siano in questo punto qua nella biforcazione quindi lavoro che in questo momento vi suggerisco di fare poi lo vedremo comunque meglio è quello di eliminare tutti adesso tra ombra eccetera eliminare tutti i rami che stanno tra il punto di attacco questo è un secondario in cui il punto di attacco tra il primario tra il ramo primario e il secondario tra questo punto è la biforcazione e anche è anche lo spazio successivo vediamo se ne trovo uno migliore comunque questi adesso dopo che li elimino con le mani guarda così è un lavoro molto veloce quindi teniamo puliti teniamo teniamo vediamo se riesco a inquadrarlo lo spazio che c'è tra l'attacco tra il secondario e il primario pulito dai nuovi getti anche qui sotto e diciamo almeno un centimetro oltre la sua ecco almeno un centimetro oltre la sua biforcazione chiaro e in questa maniera ragioniamo anche per i successivi qui abbiamo già un altro terziario la gemma che sta qua in mezzo non non ci serve a nulla questo è fondamentale capire qui ad esempio abbiamo vediamo se si vede delle gemme sottostanti in questo caso non ci servono le asportiamo così ma anche questa dove ok anche questa qua che ce ne due che è proprio nell'attaccatura poi come ragioniamo qui vediamo come ragioniamo qui all'interno questo spazio è molto ristretto quindi lasciamo la gemma esterna eliminiamo quella interna chiaro qui non creerò un sovrappalco dove così qui non creerò un sovrappalco questa ti serve per creare un sovrappalco abbiamo già questa del ramo superiore e quindi qui non ci serve ne abbiamo due stesso discorso quella interna la elimino ce n'è un'altra sotto eccola qui quindi esterna esterna questo ago possiamo toglierlo di conseguenza ragioniamo su tutta la vegetazione quindi in questo momento ripeto cerchiamo vi suggerisco poi vediamo in in dettaglio tutto quanto vi suggerisco questo momento almeno di eliminare ad esempio questo è molto vicino alla questo germoglio alla biforcazione all'attacco e lo elimino qui ne sta nascendo uno una schiattina qui c'è un altro diamo se mette a fuoco sì allora qui c'è un altro che elimino subito qua ne abbiamo tantissime quelle che vanno verso il basso le elimino di sicuro di sicuro qui ne ho due una debole dove ok qua una debole una forte chi se ne frega lasciamo tutte quelle forti quella debole la eliminiamo ok ecco qua si vede bene quindi assolutamente matematicamente da eliminare quelle vicino alla attaccatura ok non è non è una cattiva idea ripassare il giorno successivo perché nel momento in cui si fa lavoro qualcosa sfugge qui abbiamo una corona di gemme molto vasta questa che c'è sotto la elimino ma queste vanno eliminate tutte perché che abbiamo un altro ramo vicino e quindi queste vanno eliminate altro piccolo esempio e poi devo andare vedi anche qua tra l'indice e il pollice all'attaccatura abbiamo una gemma che posso eliminare col pollice qui c'è un ramo che avevamo che avevo lasciato sotto è nata una gemma qui sotto si vede eccola conviene toglierla abbiamo già ramo non non abbiate né doppi poi sulle cime vedi che le cime sono più avanti sono più forti rispetto alla vegetazione arretratta quindi in questo caso abbiamo tre gemme in questo caso tolgo la più forte e elimino gli aghi come sappiamo anche dai tagli olivastri tagli olivastri tagli olivastri eliminiamo gli aghi che hanno praticamente generato queste gemme vedi altra cosa e non smetterei mai anche questa ma verso il basso quindi abbiamo tre vicine tolgo quella che va verso il basso lascio questa e questa questi aghi vanno eliminati e sfoltiti? quindi abbiamo molti casi simili, anche qui ci sono tre gemme, tolgo quella centrale, la più forte, per il momento facciamo questo lavoro, per il momento questo è il compito per casa, ma che bella l'arice, guarda i l'arici, sono felice sui l'arici, guarda quanta vegetazione, allora ragazzi, vi ho dato il compito per casa, iniziate, ma questa, allora questa operazione, dove è il sole? Beh, meglio così, questa operazione di scelta delle gemme la potete fare su tutte le piante non appena rinvasate, a meno che non siano aceri che avete da anni e sono vigorosi, anche se li avete rinvasati adesso in primavera, partono alla grande, aceri a parte, parliamo di sempreverdi, sia latifoglie che conifere, piante in vigore, non appena rinvasate, andiamo a fare una scelta delle gemme, il compito per casa per oggi, mi fa ridere questa roba, è l'eliminazione delle gemme all'attaccatura tra il primario e secondario, tra secondario e terziario, tutte quelle che stanno sotto e da sotto non deve venire nulla, nel caso in cui deve avvenire qualcosa sotto quella gemma la lasci, però nella maggior parte dei casi da sotto non deve venire nulla, quindi le eliminiamo. E' una diretta velocissima perché ho veramente poco tempo oggi, ci vediamo lunedì, la facciamo sul tasso e su qualcos'altro, vediamo, forse anche sull'olivastro, vediamo sull'olivastro anche se un po' più avanti, però è utile, è sempre utile farla, cerchiamo di snocciolare bene tutta questa questione, di selezione delle gemme, questa roba qua ovviamente funziona anche per tutte le piante super mature, ma anche per i pinitumbergi, anche se per i pinitumbergi questo lavoro che ho avuto la fortuna di eseguire a Tokyo da Kobayashi, questo lavoro si fa molto molto prima, dicembre-gennaio, con gemme super ferme. Qui invece nel caso del tasso, di questo tasso, adesso sono super evidenti, il suo vigore è chiaro e quindi possiamo agire di conseguenza. Quindi non ci sono regole fisse, non c'è una regola che vale per tutto, non c'è una regola da applicare sui tassi che valga per tutti i tassi della vostra collezione, perché se sono fatti da seme, da seme reagiranno alle vostre operazioni in modo differente perché sono diversi. Ciao ragazzi, a lunedì!